Ebbene sì, quello che potete leggere nel titolo è successo. Un utente ha caricato sul suo account TikTok World Cup Time Traveller un filmato che rivela l'esito del torneo di calcio, arrivando in breve tempo a milioni di visual. Vedendo alcune immagini estrapolate dal filmato, possiamo constatare la vincita del Brasile contro la Francia con un 2 a 1. Il Brasile, appena battuto la Francia nella finale dei mondiali del 2022, sono un viaggiatore del tempo, ha ammesso lo stesso utente in didascalia. Le persone sono rimaste sbalordite dalla premonizione del viaggiatore, tant'è che attendono con ansia l'esito dei mondiali per vedere se afferma il vero oppure no. Vi da dire che questo viaggiatore del tempo è bravo con l'editing, visto che la presunta clip della vincita del torneo non è nient'altro che il gol di Richarlison nella partita di apertura della Coppa del Mondo contro il Belgio. Inoltre la divisa della Francia di Giraud sembra avere una sola stella sullo stemma, il che vuol dire che proverrebbe da prima del 2018, dato che fu proprio in quell'anno a vincere una seconda. Staremo a vedere se il viaggiatore del tempo ha ragione oppure sei qualcuno che ha qualche conoscenza. Secondo voi invece di cosa potrebbe trattarsi? Credete alle parole del viaggiatore?